La passeggiata ribocca di vetture e di pedoni. A fine di meglio favorire gli intrigli amorosi, è espressamente vietata a chi che sia di portare l'Ume. Tutte le torce si spengono a Porta Felice, ovela che attendono il ritorno dei loro padroni, e l'intera adunanza resta per un'ora o due nelle tenebre, a meno che le caste corna della luna, mostrandosi ad intervalli, non vengono a dissiparle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.